Sono dati allarmanti quelli che emergono dalle strade abruzzesi. L'ultimo fine settimana ha segnato in negativo la nostra regione al terzo posto a livello nazionale dopo Lombardia e Campania per numero di vittime per incidenti stradali. E questo è il dato amaro fornito dall'ASAPS, Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Ma in provincia di Teramo l'ultimo incidente mortale è avvenuto martedì sera a Silvi e rappresenta il quinto registrato in provincia ad inizio del 2024. Dati che preoccupano visto che la provincia di Teramo nel 2023 con dati del 2022 si è giudicata il triste primato a livello regionale nell'annuale rapporto sull'incidentalità stradale che ACI e Istat hanno finalizzato per mappare gli incidenti comune per comune con relativi dati su morti, feriti e tipologie di strade. L'anno scorso purtroppo la provincia di Teramo è stata un pochino la maglia nera per quanto riguarda i morti sulla strada, circa 23 morti, però è fondamentale che la nostra presenza grazie anche alla collaborazione con la Polizia di Stato, con gli altri enti, anche praticamente con l'ufficio scolastico non solo regionale ma soprattutto provinciale, grazie a questa collaborazione noi riusciamo a formare i ragazzi. Una delicata questione che riapre l'ampia tematica della sicurezza stradale e su cui l'ACI è annunciato di essere in stretto contatto con le autorità competenti per organizzare in particolare nelle scuole iniziative di educazione stradale. Dobbiamo sensibilizzare non solo i ragazzi ma anche le famiglie ad evitare questo malcostume dell'alcol prima di mettersi alla guida e così anche l'utilizzo purtroppo di stupefacenti, se ne parla poco, ma noi sui ragazzi ci bacchiamo molto su questo tema. E poi per quanto riguarda la sicurezza stradale noi abbiamo un rapporto continuo con le amministrazioni ovviamente locali, provinciali ma soprattutto comunali e cerchiamo di sensibilizzare gli amministratori a che le strade possano essere particolarmente più sicure. Per noi è un obiettivo fondamentale e poi cosa molto importante lo facciamo continuamente con i nostri diciamo incontri, noi facciamo diversi eventi durante l'anno, eventi che sono di tipo come dire ludico ma in questi eventi formiamo anche come dire le persone adulte. Ricordiamo che alcol, che stupefacenti, utilizzo soprattutto del cellulare significa praticamente come dire molto più rischio verso patologie praticamente accidentali ma soprattutto verso la morte.